Buongiorno, io sono Cristina Arlotto, sono una restauratrice di beni culturali, diplomata nel 1985 presso l'Istituto Opificio delle Pietre Dure di Firenze. I musei reali mi hanno affidato il restauro di un numero piuttosto consistente di urne cinerarie del secondo e terzo secolo avanti Cristo e hanno comportato ovviamente un'enorme attenzione per quanto riguarda il recupero in laboratorio. Questo progetto è stato ambizioso e la problematica iniziale è stata proprio il trasporto di tutte le urne perché alcune di dimensioni piuttosto grandi, pesanti perché in materiale lapide, altre invece in materiale in terracotta di dimensioni anche più ridotte hanno comportato un'attenzione diversa. Abbiamo ritenuto necessario l'intervento di un tecnico predisposto appunto a fornire attraverso un'indasione diagnostica precisa dei risultati che servissero nel capire esattamente la natura di questi pigmenti. Detto questo abbiamo eseguito appunto delle campionature precise per individuare questa gamma di colori. La novità assoluta che è apparso in superficie, il blu egizio, molto raro e ha dato risposte che attualmente non erano ancora emerse anche da precedenti interventi di restauro anche perché queste urne in passato avevano già subito un primo intervento di restauro ma che non aveva messo in luce certe caratteristiche proprio di costruzione e di utilizzo di colori particolari per quanto riguarda la policromia in superficie. Durante appunto questa campagna di indagine diagnostica è emerso soprattutto su un reperto un piccolissimo frammento di doratura che inizialmente si pensava fosse solo esclusivamente un'applicazione di un colore rossastro. Il nostro lavoro è dare luce ai resti del passato. Quando sono arrivate in laboratorio e abbiamo iniziato le operazioni di pulitura le opere si presentavano offuscate e impedivano la lettura completa delle policromie. Durante tutta la fase di recupero, di restauro, via via venivano alla luce questi colori molto potenti, molto brillanti, esaltando del tutto l'opera nel suo insieme. Grazie a tutti!